Vai! Immagine di copertina! Grandi firme! Ciii! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Papi spendi la tv per piacere, se no ci tolgono questo video! E niente ragazzi, che stiamo a fare qua? Le vedete? Sono uova di Pasqua! Avevo comprato finalmente le uova grandi firme! Solo per scartarle, per fortuna, perché di solito io queste le ho sempre comprate a mia nipote, più grande, e quindi cosa li compro, i grandi, li prendevo queste grandi firme e invece per me non l'ho mai avuta, l'uomo grandi firme della Bauli allora beh, l'ho comprato da sola e ho cercato di prendere quello più pesante! C'è un secto! Vero amore? Leon invece che uova hai tu? Fai vedere! Questo non è grandi firme, però sempre l'abbiamo comprato sempre dal Conadix Sì sì, l'ho detto, non lo apriamo! Qual è mamma della Vanini? Vanini, cioè è proprio alto locale, lusso proprio! Il lusso proprio! Questo mamma è un uovo molto molto importante! Una cioccolata, grande concorso, scopri il Sudafrica! Praticamente, apriamo prima quello, poi passiamo... Com'è? Il cioccolato? Popcorn! Leggi, il cioccolato e questo uovo è fatto di... Al latte e il popcorn, calonezzato e sale! Wow! Stacchiamo visto che l'ha già staccato! Praticamente questo è... Ok ragazzi, apriamo quest'uovo di Pasqua! Guarda! Quindi finalmente è un'apertura uova! C'è un video apertura uova, ragazzi, scusate il gioco di parole! Vai amore, apri questo, che so che lo vuoi già aprire da tempo! Questo ve lo mettiamo qua! E vediamo che cosa cominciamo a trovare anche nelle uova bauli, grandi firme! Perché non si mantiene? Oh, già, questo! Wow, sono proprio curiosa di assaggiare questo uovo! Ahia! Fai lo vedere come, eh! Avicina, avviciniamo! Ma no, che profumo, mamma, vedi? Ah, ecco qua, ragazzi, vedete, tipo... Dovrebbero stare i popcorn dentro! Pensate che è ancora scoppio, poi ne... Che profumo! Che non potete capire, se tanto mi dà tanto, dà il profumo, io, raga, ve lo consiglio! Non mi ricordo quanto l'ho pagato, però non tantissimo, forse 10 euro dal Kodak! Ah, bravo! Ce l'hai fatta! È fortissimo, mio bambino! Beh sì, i popcorn ce ne sono, ma ci sono due sorprese? Due sorprese! Che cosa è il dono? Non sono scoppiati i popcorn! Stiamo scassando! Eh sì, è vero, amore! Stavo scherzando, papà! Papà morello! Papà scherza sempre! Ah, questo è il concorso, amore! Noi possiamo vincere l'Africa! Ecco, qui c'è un codice! Un viaggio, mamma, possiamo vincere! Un viaggio alla scoperta dei meravigliosi paesaggi del Sudafrica! Wow! Wow, un grande concorso! Va bene! Va bene! Questo è il concorso! E questo che cos'è? Delle carte! Ah, no, no! Amore, quello è tutto sano! Prendi quell'altro, è un po' più aperto, è un po' più rotto quello! Cioè, doppia, vanini, ragazzi, vanini! Un po' più di sigarette! Cos'è? Non lo so, amore! Vediamo che cosa abbiamo trovato! Assaggia, assaggia! Come va di pop corn? E' aperto! Assaggia di pop corn, amore! Facci! Quanti è? Pop corn e caramellati sono! Oh, ma, cioè... Tutto se si arromba... Ah, mamma! Dai un pezzo pure a mamma, amore! Oh, ce l'abbiamo fatto! Sì, amore, un attimo! Le carte, veramente! Eh, mini carte da poker! Ma proprio mini, raga! Proprio mini! Che cos' ce ne facciamo di questo mazzo di carte da poker? Giochiamo con le carte! Voglio capire! Giochiamo con le carte! Eh, Dea, lo vuoi tu? Cioè, è un mazzo di carte! Cioè, uno! Dobbiamo andare a comprare l'altro uomo per fare due mazze! Cioè, non possiamo giocare un po' qua! No, vabbè, basta che... Mura con mini! Le bambini! I bambini possono giocare! Mettiamo l'annuncio! Se sei della zona nostra, facciamo una partita a casa! A Pasquetta venite a casa! Ma, mi piattazza già il sui cioccolato? Buono! Com'è? Com'è, amore? Voi ve lo state mangiando? Com'è? Buona! Buona? Ci sentono i paspagni? Ma si sente? Poi dopo scoppietta, non la pancetta! Io sento solo caramello! Come non è scoppia, no? Ma è buono! Mamma mia! Come non è scoppia? Ma lo sento? Ma non c'è uno scoppia, porc'orne! Non c'è un caramello in basso! È vero? Cioè, dai, ragazzi! Dai, dici di caramello, dai! Non solo caramello! No, non c'è uno scoppio di porc'orne! Eh, vabbè! Vabbè! Prendiamo l'altro? Voglio capire! Il pezzo più grosso! Dove c'è il... Eh, così lì! Dove c'è il pop corn, vediamo. No? No. Però è buonissimo, però è il caramello però mi piace che il cosino è di carta. Bello, con tutta questa plastica, invece questo è di carta, ragazzi, carino. Comunque, il cioccolato è buono per carità, il cioccolato al latte col caramello. Ma, oltre a quello, nada. Diamo un cappello a Dea. Dea ha il cappello, mamma. Allora, veniamo a noi. Quello dobbiamo fare, chissà se ne andiamo in Sudafrica. Veniamo a noi, ragazzi. Allora. Dove è Sudafrica? È molto giù, giù, giù. Giù al mondo, giù al mondo. Come ci arriviamo? Con l'aereo. L'aereo. Ho paura. Vabbè, dobbiamo vedere prima se vinciamo. Comunque, grandi firme, prendi l'altro, papi. Quale apriamo? Liano, quale vuoi aprire per primo? Quello per lui o quello per lei? Guardate. Ma poi dobbiamo aprire anche questo, eh. Ma quella è fondente. Questa è la testa, almeno uno per lui ho preso. Però uno per me, per piacere, ragazzi. È per me. Questo è mio. No, è mio. Questo ha scritto lui. È per l'io. Non tuo. Lui. Poi vediamo la sorpresa. Vabbè. Allora, questi sono pari che erano un po' più pesanti. Questa è l'acqua, secondo te, è già più pesante. Abbiamo detto che apriamo quello da uomo. Dimmi. Perché il cioccolato è l'acqua. Era lui. Era per il papà. No, è per il mio papà. No, è per il mio papà. Vai, apri. Gli altri che abbiamo aperto sono tutti nocciolati. Perché Cassino sta facendo per arrabbiare. Ah, sì? Arrabbiare. Stamattina. Ma facelo per arrabbiare. Sì? Allora, aspetta, aspetta. Queste sono le uova che si possono trovare. Tra l'altro c'era anche il nocciolato. Papi, c'era quella granella di nozzola. E' anche bianco. Quest'anno abbiamo fatto con la granella di nocciole. Io non l'ho mai visto. I premi sono Prima Classe, Pollini, Sector, Parker, Gutenrich e Roncato. Questi qua, ragazzi. Ok. Latte finissime. Vai. Cosa volevo trovare? Io volevo trovare gli occhiali da sole, capisci? C'erano gli occhiali da sole. Eh? Sì. Ma da parte tu? No, da parte tua. Io volevo trovare un portafoglio. Se c'è. Che chieserò? Di macrasse, forse. Di solito sono portamonite, portacasso. Ecco, il portafoglio ho trovato. Wow, che uomone grossi! Tutto per te! Adesso 300... No. 300 ventri o 300? 320? No! Sono 365 grammi. E cos'è questo? Eh, questo è il coso di plastica che regge, mamma, il bicchiere che regge l'uovo così, guarda. Braccia, guarda. Rompila. Teni, dai. Un case lo perdiamo. Rompila. Hai, hai. Ah, ah... Ah! Pack! Questo si spacca da metà, vedi? Ah, c'è qua. Ah! no no il cacchio è cos'è il sacco faccio vedere cos'è il sacco vedi tre possiamo come casco come pacca all'inno una penna una penna questo mi sono persi di penne chiaramente non ho visto una penna parker una penna parker vediamo se scrive questo è il regalo più brutto si scrive è blu io amo è blu questa penna no per quale motivo va bene la utilizzo nel camion per firmare le bolle oh come è una penna così di marca la vuoi portare nel camion portare tutte le varie penne quest'anno la penna non so di male la penna ragazzi il chocolate mi è sembrato essere buonissimo avevo recuperato i soldi del uomo la soffrezza ah stavo dicendo che stamattina stavo sentendo la radio che c'è una nuova come si può dire buona una nuova una nuova una nuova cioè in poche parole non mi viene il termine in poche parole che fanno chi vuole acquistare l'uovo di Pasqua le vanno a misurare sulla bilancia della frutta e verdura per vedere su per giù quanto pesa mi sembrava che fatti io per quello ho visto e in base a quello c'è come un uovo in base a la sorpresa io ci ho provato ma sono cazzate però dai perché io queste uovo le sono andate a coprire con Giampiero al Conad di casa massima abitudine di pesare e siamo stati a pesarle ma non nella bilancia e abbiamo pesato tutti ma quella che pesava di più abbiamo preso però ragazzi buono comunque il cioccolato ma quella pesa non me l'aspettavo proprio ma io ho preso questo uovo che è quello più piccolo perché fatti i grandi film e fanno anche la dimensione più grande saluti? quasi 365 vuoi salutare? si e c'era quello anche più grande saluta diciamo e vai ehm praticamente c'era quello più grande forse le sorprese tipo che eri da sole si trovava in quello più grande non lo so beh vabbè comunque sa di fatto che quello più grande forse ha 20 euro poi se abbiamo magari 14 euro 14 euro non è 2 euro vabbè comunque vabbè ma queste pene non costano 2 euro come le bic come le pene cos qualunque costa 1 euro? vabbè mi firmo firmo le bolle di accompagnamento dei corsi qua invece l'ho preso fondente finissimo ehm si trova morellato le quere 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 tun set tun mandarina dac comete e prima classe per chi non fosse di bari tun sarebbe tondo no no morellato e comete sono dei gioiali quindi speriamo di trovare i gioiali capito papi? ah è gioiali si che non è a costa tun ma pure è tun ma questo non è leggero non si possono trovare l'orsetto della tun poi chissà ma non sono un amante io ho pochissime cose e gli altri che gli apri dà li ho pure regalati i regali dell'esercizio bomboniere cose varie non mi fa impazzire l'uovo si prezzata così l'hanno chiuso a metà vedi così l'hanno fatto no cioccolato fondente non ci ma mia uova della bambina c'è pure bravole di cioccolata cioè il cioccolato è proprio buono quindi ecco perché lo volevo lo volevo è me lo comprato ho trovato tun papi che carino ho detto mi scusi non mi piace ho capito ma è meglio che è una cosa di prima classe l'ho trovato tun vuoi vedere che cos'è? è un ossetto gli orri a vedere un ossetto guarda com'è carino carino papi è carino è tonno l'ho detto a base di stun è tonno wow che empatico Leanne guarda abbiamo trovato l'orsetto della tunna lo prendiamo 15 euro recuperiamo un po' dell'uovo ecco amore guarda abbiamo trovato l'orsetto della tonna abbiamo trovato il nostro polare è comunque la cosa più costosa rispetto alle altre cose, chiaro che se trovavo comete o trovavo morellato va bene lo stesso, però se mi devo trovare la bandana ragazzi o l'elastico o il portamonete di prima classe, vi dirò che questo cioccolato fondente è buono però c'è anche la bocca del del come si chiama il soccorato al latte e non è proprio come dice lion spaziale c'è di meglio in questo mondo ragazzi noi partiamo dalla scoperta dell'africa e diciamo qua facciamo come soccoloco e che cos'è non l'ho visto quello di che cosa l'ho visto l'ultimo toccoloco come si chiama tolo loco come si chiama di più tolo tolo andiamo la qua è meglio questo concorso se vinciamo eh vabbè se non vinciamo ci teniamo la penna grigia e metallo che facciamo partita a casa a questo punto meglio della penna è vero che è un mezzo mazzo cioè un mazzo soltanto a mezzo però è poi piccolissimo come fai a giocare con un mazzo piccolissimo così vabbè raga che me lo devo dire a fare niente lion che stai a fare lion che stai facendo che stai facendo non si dice così niente va bene ragazzi allora da questo come lo chiamiamo l'orsetto toon lo chiamiamo teddy oh questo qua ragazzi ha un montepremio complessivo di 12.660 euro che sarebbe? eh dei viaggi no lo vedi? questa è l'estrazione finale entro il twin ci sono 6.2024 ho capito quindi di 12.000 euro e questo invece è il montepremio complessivo di 12.600 euro loro finanziano questi soldi evidentemente per fare questi viaggi siccome un viaggio in Sudafrica al minimo 5.000 euro ti costa sono 12.000 quindi solo 3 potrebbero neanche 3 noi siamo i primi potrebbero vincere noi siamo i primi perché siamo i primi ma siamo i primi ma siamo i primi ma siamo i primi 6.000 euro noi siamo i primi ad averlo no? ah questo uovo eh ma che ne so no ma sono pieno di uova lì no noi siamo i primi a farvi vedere che tal questo qui? eh sicuramente saremmo noi i primi a andare nella Banini? no ma se potrebbero comprato al Conad l'ho trovato ma penso che si potrebbe trovare anche da qualche altra parte però c'erano tante uova c'era anche quello di Benedetta Rossi che volevo però ho visto le sorprese sono uguali a quelle dell'anno scorso eh e non l'ho preso c'era quello di Clio Makeup che è lo stesso ho visto un video di un'apertura di uova di Clio Makeup e non mi sono piaciute le sorprese quindi niente preferiamo le uova sia di cioccolato che eh di sorprese di Eurospin e di Lidl a questo punto che tanto costano molto di meno eh perché insomma il minimo lì che costava costava 10 euro come quello che abbiamo aperto appunto questo di Banini che per carità la cioccolata è spaziale ma i Popcorn non si sentivano ehm Bauli è sempre una garanzia eh e poi basta non non comprerò altre uova famoste cioè le di marca eh un altro video arriverà delle uova di Lidl le ultime due della linea Deluxe eh e basta se riesco a trovarne appunto una ehm del resto basta l'apertura di uova di Pasqua torniamo con i video vuota la spesa e tanto altro eh e basta ragazzi va bene così anzi a proposito se ci state ancora seguendo fino alla fine io volevo fare un sondaggio ma magari scrivo anche un post magari se mi volete commentare sotto volevo fare dei video ehm di video tutorial backup non so se a voi piace però eh se vi piace eh avevo pensato di partire con un tutorial di make up occhi occhi tipo una mmm come si parla madonna mi cioè vabbè un un trucco occhi un un trucco alla panna no perchè non mi vedo cioè un po' io so cosa che faccio se uno smokey eyes madonna tanto uno smokey eyes quindi fatemi sapere se se eh vi piace così io lo faccio tanto io lo faccio il primo ovviamente non sarò io il modello no 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 giustamente eh e quindi se poi vi piace vi piacciono questi video vediamo come va eh proseguiamo così faccio dei tutorial eh visto che Leon si sta scocciando un po' di fare i video e quindi eh a parte i vlog dove ci sarà lui perchè questo canale è mamma Sara Leon però è anche mamma Sara quindi magari facciamo dei video tutorial vi insegno a truccarvi che dite eh e poi magari ci dite che ne so volete andare a una cerimonia faccio il trucco di cerimonia vi dovete sposare faccio un trucco sposa eh dovete una cerimonia dal giorno facciamo un trucco al giorno come si mette l'highliner non so queste cose qua quindi se vi va eh commentate si si vogliamo vedere i video tutorial il trucco vogliamo vedere i video sui trucchi eh e li facciamo va bene quindi va bene da questo video è tutto io vado a fare vado a fare i bagagli ma c'è un foccoso ma c'era no vado a fare i bagagli si si sta dietro ok vado a fare i bagagli vado a trovare le tue antenate fossi più determinato così determinato anche in altre cose vado a trovare le scine va bene arrivo subito da questo video è tutto noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao